Sì, ma guarda il cane del draggero Sarebbe necessario avere la presenza di Giulia, ragazza brava e sensibile Giovedì, quando verrà lei appunto, pensaci Giulia, ti voglio bene Giovedì cosa fai? Eh? Giovedì, perché giovedì? In che senso? Dice, giovedì, quando verrà... Cosa? Ehm... Il coso, no? La donazione? No, vabbè, non ho capito No, è... Un termine Cosa? Che giorno è oggi? Eh, martedì Ma perché? Ci vediamo giovedì? Ehm... Cioè, nel senso, non... Cioè, non credo sia nei programmi Vuoi... Vederci? Cosa? Ok, grazie a te Vieni una ragazza giovedì Si chiama Alaska su Twitch Vieni giovedì Giulia Ma è un profilo privato Per coincidenza È una ragazza che ti piace? A me non... No, no Nel senso, è una streamer Vabbè, guarderò su internet Su internet? Cerchi Alaska Mentre troverai il paese Ma no, non credo per TikTok Alaska Greenboard Prima ricerca Grazie, Steph Oh, no, no No, no No, no No, no Che gatta cicova, eh Che assurdo Greenassurru Hai tanti amici? Non capisco No Ci siamo Ehm... Comunque ci tratti proprio tutti Allo stesso modo Vabbè Siete veramente di figli puttati Tutti Cioè, siete veramente di figli puttati Propributer 2 Ti seguo Bomba comunque Grazie Del supporto